Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana e sulla FIPILI. Guidare con prudenza per la nebbia a banchi in A1 tra Ronco Bilaccio e Aglio e tra Valdichiana e Chiusichianciano. Prestare attenzione anche alla pioggia in A12 tra Pisacentro e Rosignano e in FIPILI lungo tutto il percorso. Sulla statale 1 Aurelia scambio di carreggiata per lavori nel tratto compreso tra Fonte Blanda e Montiano in direzione Grosseto. Sulla strada regionale 429 di Valdelsa senso unico alternato e restringimento di carreggiata per lavori 3,70 e 950 e 71,100 a Empoli. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!